Nel mese dell'educazione finanziaria prende il via la prima tappa degli Investment Days di ING Italia. Monza, Roma e Napoli, le città in cui la banca incontrerà i propri clienti per analizzare lo scenario di mercato e le opportunità di investimento. Un'occasione per ribadire l'importanza di iniziare fin da piccoli a occuparsi dei propri risparmi e investimenti. Educare il risparmio e gli investimenti è importante per poter avere consapevolezza delle scelte che si fanno. Le scelte di investimento che devono essere sempre orientate a quelli che sono i nostri bisogni e le nostre necessità. L'età migliore per poter cominciare a imparare che cosa vuol dire risparmiare e investire è sicuramente già in età scolare quando si formano i risparmiatori e gli investitori del futuro. L'attuale scenario di mercato resta caratterizzato da volatilità e inflazione elevata. Quali indicazioni dare allora ai risparmiatori per orientarli verso la direzione migliore per i propri investimenti? La regola chiave è sempre quella della diversificazione e a quella dobbiamo sempre tendere nella nostra attività di investimento. Poi va detto che il contesto attuale offre anche, oltre a delle incertezze, delle opportunità. Tassi di inflazione elevati significano anche remunerazioni elevate sui conti di deposito e sulla liquidità remunerata che può comunque essere d'aiuto in un'allocazione di portafoglio. Tra le prime scelte di un investitore vi è quella tra conto, deposito o investimenti finanziari. Una delle proposte che stiamo facendo ai nostri clienti attraverso una promozione è quella di unire un tasso agevolato sulla parte di liquidità remunerata, il 4,75, per ogni ammontare di investimento che viene fatto, in modo tale da avere un giusto bilanciamento tra liquidità remunerata e tassi attraenti e investimenti finanziari.